Allora, sempre 22 settembre, siamo sempre qui a Darenzano, questo sabato sera, siamo al porto, qui al porticciolo di Darenzano, c'erano dei punti forse più accessibili e più alti, però niente, non si può passare, non ho evitato il passaggio a estranei. Allora, ne approfittiamo, facciamo di qua la ripresa, intanto sono venuto a controllare il mio yacht, tutto a posto, me lo tengono bene, perfettissimo. Saluto i miei soci, non l'ho fatto prima nei filmati precedenti, Danilo e Daniela, che tra l'altro mi dovrebbero, almeno Danilo, mi dovrebbero raggiungere qui stasera. Facciamo un pezzettino di porticciolo, non filmando ovviamente altre persone o targhe per la privacy. I yacht e targhe non ce n'hanno, perciò non penso che ci siano problemi di privacy. Bene, intanto saluto tutti quelli che visioneranno il mio filmato su YouTube. Grazie per chi si iscrive. Bene, proseguiamo il giro, andiamo a vedere altre parti di Arenzano. Intanto Franco Vergari vi saluta, ci sentiamo dopo. Ciao!